Venendo alla vicenda invece della nave della Mediterranea, ieri c'è stato lo sbarco, ma la nave è stata sequestrata nel porto di Lampedusa, Salvini ha detto secondo me non è un caso che questa vicenda si sia in qualche modo avuta proprio nei giorni in cui c'è il voto al Senato? No, ma anche questo, semmai sono piuttosto preoccupato anche dal tono, dal contenuto della stessa direttiva del Viminale, mi sembra anche una forte ingerenza del potere esecutivo sulle valutazioni autonome e indipendenti dalla magistratura, cioè non è un ministro dell'interno, una sua struttura a dover indicare come ci si deve comportare su vicende di polizia giudiziaria e di reati, perché l'esecutivo ha delle responsabilità, la magistratura e la polizia giudiziaria altre. Ma è evidente che su questo il governo sta costruendo una propaganda e trovo assolutamente grave che le ONG vengano equiparate in qualche modo come fa Salvini e il governo ai trafficanti di esseri umani. aprissero le galere ai veri trafficanti di esseri umani e andassero a cercare con le cooperazioni internazionali nelle strutture dove hanno la sede operativa i trafficanti di esseri umani. Non sa, possono pigliare con Mediterranea, con Sea-Watch, con Opera Arms, con Medici Senza Frontiere, insomma è veramente molto molto grave, ma questa è l'operazione di propaganda sulla quale costruiscono anche un certo consenso politico nel nostro paese.